La testa per un fallo di mano di Pirlo, Arciundi era lì vicino, Totti dopo il colpo di testa di Mertesacker Totti dentro è buonissimo, il pallone per rotta, posizione regolare per rotta, se lo allunga, salva quel pallone ancora lì per rotta E salva Leman, che occasione, che occasione